Dopo l'Europea, nel quale insomma Alleanza Verdi-Sinistra è andata bene, molto bene, il Partito Democratico oltre le aspettative, ma si è registrato anche il tonfo del Movimento 5 Stelle, ecco un minuto dopo il voto la segretaria Lischlein ha detto basta Veti. E questo invito lo ha raccolto Matteo Renzi che ha detto basta Veti sia ai voti altrimenti finisce come in Basilicata. Renzi propone un accordo alla tedesca, io le chiedo se ci sono oggi le condizioni per sedersi a questo tavolo, se come Alternativa Verdi-Sinistra e Sinistra Italiana ponete delle condizioni a Renzi oppure se in giudizio è più netto come quello già espresso da Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle, che insomma ha detto no a Renzi. Noi di Veti non abbiamo mai posti e come si vede anche dal risultato dell'Europea guardiamo i voti, questo dovrebbe valere per tutti, trovo un po' incredibile che da ormai quasi un mese si parli continuamente di Matteo Renzi, insomma di una forza politica che di voti invece ne ha raccolti pochi. Ci sono però delle questioni che hanno a che fare con la realtà, altrimenti diventa tutto un teatro. Perché discutiamo da un mese del centro-sinistra con Renzi dentro, mentre Renzi continua a governare in giro per l'Italia insieme alla destra? Adesso ci sono delle cose che sfondano il muro del ridicolo. Se tu governi qua e là con la destra, se continui a scambiarti amorosi sensi con Bin Salaman, diciamo difficilmente può essere credibile che tu stia dentro un'alleanza di centro-sinistra. Poi che questa alleanza progressista, più di centro-sinistra, alternativa alla destra, chiamiamola così che forse è più chiaro, debba quando arriverà il momento avere la capacità di definire un programma che sia chiaro, che soprattutto vincoli tutti il giorno dopo a rispettarlo. Perché se abbiamo pagato qualcosa, se coloro che sono alternativi alla destra hanno pagato dei prezzi, se la destra è arrivata al governo, è anche perché quando hanno governato gli altri, non sempre hanno fatto ciò che avevano promesso e qualche volta hanno fatto quello che avrebbe invece fatto la destra al posto loro con picchiarezza. Quindi la proposta Cuperlo, diciamo, cioè Italia Viva dovrebbe smettere di sostenere il governatore in Basilicata e l'aggiunta del... Ma vede, questa non è nemmeno una proposta, questo è buonsenso, siamo a livello precedente, è ridicola questa discussione. Dopodiché Renzi questi anni ha fatto cadere più governi di quanti ne abbia attraversati e anche questo ha a che fare con la credibilità, è stato l'autore di alcune delle riforme per le quali il Partito Democratico continua a scusarsi oggi in giro per l'Italia, a chiedere scusa ai lavoratori e alle lavoratrici di questo paese, a rese precari dal Jobs Act. Ma ripeto, tutti questi elementi sono ulteriori elementi. C'è però intanto un dato che, ripeto, fa a pugni con la credibilità e con la realtà. Se tu governi con la destra non puoi neanche aprirla questa discussione. E lo dico con più decisione a Matteo Renzi che in questi anni, come altri, ha fatto della caccia al populista la propria ragione di vita. Allora non esiste niente di più populista, è il populismo in purezza quello di chi pensa che si possa governare tanto con la destra che con chi è alternativo alla destra. In nome del fatto che magari c'è un candidato, il candidato è bravo e quindi è indifferente alla politica. Questo è il populismo, il peggior populismo, il populismo in purezza, quello che non mette nessuna linea di separazione tra la destra e la sinistra.